Abbiamo concluso il convegno delle Chiesi d'Italia, ho detto abbiamo concluso perché è tutta la Chiesa italiana che si è ritrovata qui a Palermo, anche se moltissimi di noi non hanno dato nessun contributo e non hanno vissuto nelle profondità del cuore, l'avvento. Questo perché abbiamo bisogno che la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità, siano bagnate, impregnate dalla grazia di Dio, di una grazia di purificazione che ci faccia vivere la vita nuova in Cristo, la vera vita cristiana. Una vita cristiana, quella che noi viviamo, che non è tanto dissimile della vita degli altri popoli, eppure noi siamo nati in Cristo, abbiamo ricevuto una nuova esistenza in Cristo, siamo creature nuove, siamo il fermento della vita nuova sulla terra, e questo lo abbiamo dimenticato. Ci siamo adeguati alla vita del mondo, alla vita degli abitanti di questo mondo. proprio nell'Apocalisse, tra gli abitanti di questo mondo, tra gli abitanti della terra non sono annoverati i cristiani, i cristiani, i cristiani nell'Apocalisse non sono gli abitanti della terra, appartengono al cielo, sono stirpe divina, perché hanno una nuova esistenza in Cristo Gesù. Gesù. Eppure noi ci siamo mimetizzati tanto con il mondo da considerarci abitanti di questo mondo, si intende il mondo pagano, il mondo in cui viviamo, permeato di incredulità, attaccata la terra, diviso, permeato delle tre grandi concupiscenze. Abbiamo bisogno di una profonda purificazione, dobbiamo comprenderlo questo, tutta la nostra vita cristiana deve essere bagnata nella grazia di Dio, deve essere impregnata di cielo, altrimenti noi continueremo a celebrare tutti i convegni di questo mondo e la nostra vita non si sposterà neanche ad una virgola, né nella professione della fede, né nella speranza che dovrebbe alimentare la nostra vita quotidiana in visita del cielo, né nella nostra carità che dovrebbe unirci gli uni con gli altri nella professione dell'unica fede e dell'unica speranza e farci sentire tutti i figli dell'unico padre e fratelli tra di noi. Dico che abbiamo bisogno di una profonda purificazione della nostra fede, della nostra speranza e della nostra carità, una profonda purificazione della mente, del cuore, della vita, perché risplende il volto di Cristo. In ognuno di noi che siamo membra del corpo di Cristo dovrebbe risplendere il volto del Signore, che non si vede, che non si vede. Ecco perché dobbiamo lavarci, lavarci, lavarci continuamente, nella forza dello Spirito, soltanto lo Spirito può lavare la nostra vita e far risplendere il volto del Signore. È quello che noi domandiamo questa mattina al Signore e dobbiamo domandarlo ogni giorno. Spirito di Dio scendi su di noi questa mattina e incomincia a lavarci, a lavare la nostra vita, perché risplende il volto del Signore. Spirito di Dio, vieni, lava la mente, lavi il cuore, lava tutta la nostra vita, fa risplendere quel che ancora rimane di cristiano in noi. Spirito di Dio, scendi su, Spirito di Dio. Spirito di Dio, scendi su 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 di Dio, scendi su di Dio. Grazie a tutti. Pioggia di Dio, scendi su di noi, pioggia di Dio, scendi su di noi. Pioggia di Dio, scendi su di noi, pioggia di Dio, scendi su di noi. Pioggia di Dio, scendi su di noi, pioggia di Dio. Pioggia di Dio, scendi su di noi, pioggia di Dio. Pioggia di Dio, scendi su di noi, pioggia di Dio. Scendi su di noi, pioggia di Dio, scendi su di noi, pioggia di Dio. Pioggia di Dio, scendi su di noi, pioggia di Dio. Pioggia di Dio, scendi su di noi, pioggia di Dio. Pioggia di Dio, scendi su di noi, pioggia di Dio. venisse lavata e ricevessi il dono della vita nuova. Benedici quest'acqua perché diventi segno della Tua protezione. In questo giorno a Te consacrato, rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della Tua grazia e difendici di ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a Te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Aspergimi, Signore, con il sopo e sarò purificato. Lavami, Signore, tra la bianca della neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, dal cuore del Signore. A quanto giugnerà quest'acqua porterà salvezza. E tutti canteremo Alleluia. Alleluia. A quanto giugno di Dio, da l'unica di Dio, dalla città, di Dio, di Dio. A quanto giugno è un giorno che ha fatto, potre il normale non è tutto, così è greggio di Dio. Grazie a tutti 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 e tutti Grazie a 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 tutti Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti